bella ragazzi qui è just tour, just army, just deco, just lower allora oggi volevamo parlare di questo nuovo nostro canale che è che ha una pagina associata diciamo e praticamente siamo arrivati al 131 mi pare giusto 131 like in due giorni e niente vi spiegheremo un poco cosa faremo in questo canale innanzitutto faremo dei video ogni ogni due giorni oppure ogni due giorni diciamo 3 o 4 video alla settimana più o meno e parleremo allora inizialmente faremo dei scherzi alla gente per strada per poi basarci anche su su gameplay ecco su gameplay infatti fra poco vi farò vi faremo avere anche un video nostro su gta e poi o fifa in cui uno di noi due giocherà diciamo a strogo sopra gta o fifa 5 tombolo e niente questo piccolo vlog si conclude qui era solo per farvi capire una produzione al canale per farvi capire bella ragazzi qui è giastur giastarmi giastdeca giastlover allora vi volevamo parlare di quel faccio bella ragazzi qui è giastur giastarmi BECKHEE ok bella ragazzi qui è giasturb giastarmi ma non ho capito perchè BELLASIGANSI bella ragazzi qui è just move e ride